Negli ultimi giorni sto ricevendo centinaia di nuovi follower su Instagram grazie a un unico reel che ho pubblicato la settimana scorsa. Ad oggi questo reel è a più di 200.000 visualizzazioni, te lo metterò qui sotto o qui su all'interno del video, lo puoi vedere anche tu stesso e mi sta portando costantemente nuovi potenziali clienti sul mio profilo tutti i giorni, senza che io faccia nulla, nuovi follower Instagram, e sono decine ogni giorno, e contatti email all'interno del mio database. All'interno di questo video quindi ti spiegherò come si fa davvero a costruire un reel virale e raggiungere cento se non anche mille volte con pochissimi contenuti quelli che sono le persone che stai raggiungendo fino a questo momento con il tuo account Instagram. Prima di iniziare ovviamente ti invito a mettere un pollice in su a questo video, se questo argomento ti interessa ne produrrò degli altri e iscriverti al canale perché quando usciranno nuovi video ti verrà inviata una notifica. Ma adesso andiamo a vedere effettivamente quali sono le basi per costruire un reel virale perché vi dico la verità, anche io ci ho provato per mesi, mesi e mesi, sì, ottenevo risultati interessanti, ma non è mai successo proprio quello scoppio della viralità, considerando che i miei reel avevano delle visualizzazioni intorno ai 5.000, 6.000, questo era il valore che avevo per ovviamente il mio account, poi a un certo punto ci sono stati due reel, in particolare questo che è esploso. Quindi ho cominciato ad analizzare quali fossero i punti che potevano portare alla viralità ovviamente per replicarla. Voglio però partire da alcune premesse per farti capire che ovviamente non c'è una strategia definitiva per arrivare alla viralità. Punto numero uno, la viralità è data principalmente da test, quindi non è che è un qualcosa di scientifico. Possiamo trovare delle leve, ovviamente ti dirò quali sono le leve che ho utilizzato e che ho capito aver funzionato per quel mio reel specifico, ma non è qualcosa di 100% scientifico, per cui non potrò dirti fai x, y, z, fai questo, quest'altro, quest'altro e vedi che il tuo reel esploderà. No, dovrai essere tu a testare, a ruota e ad analizzare per capire effettivamente quali sono le cose che devi migliorare per ottenere la viralità. Secondo, il reel generalmente non scoppia subito. Quello che ho visto io è che il reel diventa virale dopo un po'. Ovviamente considera che io ho un'esperienza nel settore della formazione, quindi io sono una copywriting coach, mi occupo di erogare formazione sul web e quindi con dei reel che mi auspico vadano virali vado a scardinare quelle che sono delle credenze limitanti nel mio pubblico. È diverso se ovviamente faccio dei reel di make-up, dei reel di puro intrattenimento, sono dei contenuti differenti, come puoi vedere ad esempio da influencer online. Ovviamente questo tipo di reel ha più probabilità di andare virale perché tocca temi di massa, tocca temi di intrattenimento. Nel mio caso invece devo andare a lavorare su credenze limitanti, quindi di solito il reel mi scoppia quello che ho visto io dopo 5-6, anche una settimana. Dopo una settimana inizio a vedere un incremento consistente e dopo dura veramente per giorni, infatti è da giorni che sta ancora andando. Terzo, il messaggio conta più della grafica. Quindi quello che ho visto funzionare nella grafica in sé, tendenzialmente i video perfetti come quello che sto registrando ora con una supercamera da 5.000 euro, quello che sia, sono molto meno impattanti che un video che ha un giusto messaggio. Il messaggio è tutto. Infatti ora ti racconterò anche come ho costruito questo mio reel virale e quali sono appunto i presupposti. E quarto, dobbiamo attaccare temi di massa perché ovviamente se è un reel che deve avere un'ampia diffusione, dobbiamo andare a lavorare su qualcosa che possa essere fruibile da la maggior parte delle persone. Quindi anche nel mio caso, quello che vado a fare non è andare a lavorare su parlarti dell'ultima tecnica di copywriting. A proposito, se sei interessato al copywriting, qui sotto trovi un webinar gratuito di 30 minuti, molto pratico, in cui ti spiego come passare da 0 a 3.000 euro al mese con la scrittura in modo pratico e concreto. E come candidarti per il percorso di formazione copywriter o i mastermind. Quindi non perdertelo. Ma quello che stavo dicendo era che non posso andare a parlare in un reel di l'ultima tecnica di copywriting segreta perché attacca un pubblico piccolo. Devo parlare ad esempio di credenze limitanti sul denaro che ti impediscono di lanciare un tuo business eccetera eccetera come è stato proprio nel reel che ho creato. Fammi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensi se qualche reel ti è mai scoppiato, se è diventato virale in modo da condividere. Ovviamente io mi occupo di copywriting quindi presto molta molta attenzione alla parte testuale ed è quello che ho visto funzionare alla grande. Ho visto davvero una forte propensione per il reel a scoppiare, a diventare virale nel momento in cui il messaggio era quello giusto. Quindi adesso in questa seconda parte di questo video voglio andare a rispondere proprio alla domanda ok, come si fa a costruire un reel virale? Il primo punto su cui ovviamente io lavoro tantissimo e se hai un business già avviato già lo conosci, già lo sai è avere ben chiaro a chi stai parlando e nel caso di un reel virale ovviamente deve essere una categoria molto ampia. Nel mio caso io avevo scritto, avevo fatto un reel dedicato alla città di Milano lamentandomi o comunque condividendo il mio pensiero che quando me ne ero andata era una città cara e quando sono ritornata ho visto tutto essere economico. E ovviamente il reel aveva l'obiettivo di mostrare la mia visione del mondo, del denaro e della vita in generale, del lifestyle in generale condividendo il mio pensiero che sono le nostre tasche che fanno la città. Quindi migliora dal punto di vista economico, cresci tu e vedrai che tutto intorno a te i problemi diminuiranno e anche una città come Milano ti sembrerà meno cara. Questo era il messaggio tra virgolette anche se vogliamo profondo che volevo dare però ovviamente l'ho fatto in modo divertente utilizzando un reel con un semplice video no, erano due clip video in cui ho inserito praticamente solo due copie uno all'inizio e uno alla fine in cui dicevo quando nel 2021 ho dovuto lasciare Milano perché da sola non sostenevo le spese sono tornata nel 2023 e tutto mi è sembrato economico. Perché però ho fatto questo tipo di affermazione? Perché conosco bene il mio pubblico il mio pubblico sono persone che vogliono cambiare vita e che in questo momento stanno cercando un lavoro che gli possa dare una vita diversa e c'è molto nei discorsi dei miei utenti questo approccio al denaro e ovviamente come cavallo di battaglia io porto un approccio diverso quindi è assolutamente coerente con la persona con cui io sto parlando. Secondo, devi avere una lista di disagi profondi. Nel marketing li chiamiamo anche problemi se vogliamo. Le solite cose. Fai una lista dei problemi del tuo target. Ok, sì, tutto meraviglioso. Cerca di andare più in profondo. Vai su quelle frustrazioni più profonde. Io sono andata oltre il non avere soldi. Sono andata al non posso permettermi questa tipologia di vita a io ora posso permettermela perché vedo tutto molto economico. E anche il linguaggio che ho utilizzato era molto molto semplice. Sono andata a scavare su un problema un disagio profondo che in questo momento probabilmente il mio target vorrebbe permettersi di più ma non può. E quindi sono andata a giocare anche sulla frustrazione in cui ti ingabbia la città di Milano. Terzo punto è scegliere uno di questi disagi. Ovviamente qui dovrai fare dei test perché non è il primo che ti scoppierà. Probabilmente ne dovrai fare decine. E scrivere un testo semplice sintetico e con un po' di piccante. Perché dico con un po' di piccante? Perché non possiamo sempre essere politically correct. Se vogliamo che Orin ci vada virale dobbiamo avere anche quel poco di deve avere quel poco di pepe. Deve essere un po' irriverente come nel caso in cui ho chiamato la città di Milano economica. Era molto sottile. Attenzione lo facciamo con il nostro tono ma deve avere quel punto di pungente che è proprio quello che scatena la viralità perché a un certo punto le persone cominceranno a mettere like o perché avranno capito il tuo tono ironico pungente o perché gli avrai triggerato qualcosa e quindi cominceranno a commentare. E quando scatenerai questa viralità vedrai che arriveranno anche tanti insulti ma sono assolutamente normali. Significa che hai scritto il messaggio nel modo giusto. Vatti a vedere il mio reel non deve essere un copy lunghissimo. Io ho veramente scritto due frasi e tutto è scoppiato. Quarto punto vallo ad inserire in un contenuto video che vada a rafforzare visivamente questo messaggio. Quindi io utilizzo tendenzialmente i contenuti di lifestyle e ovviamente parlando della città di Milano ho mostrato il Duomo premissima cosa quindi associazione visiva Milano Duomo e poi ovviamente una serie di clip che avevo girato nella città con il mio cellulare è molto molto semplice erano già delle storie che avevo pubblicato niente di fantasmagorico mi vado a prendere il caffè e ho fatto un video e poi l'ho composto facendo sembrare a un'atmosfera ricca tra virgolette quindi non era erano aperitivi non era niente di che però questa associazione visiva ha fatto sì che le persone ovviamente si ritrovassero nel messaggio quindi è sempre molto importante andare a rafforzare il messaggio con tutti gli elementi di comunicazione che abbiamo utilizzato e poi ovviamente scegli una musica e pubblicarlo direttamente dall'app di Instagram. Ultimo tip ovviamente il segreto è analizzare e continuare a testare perché questo reel già l'avevo pubblicato in una vestia un po' diversa ma non era scoppiato era andato bene ma non era scoppiato quello che faccio è andare continuamente ad analizzare quelli che sono i reel che mi sono andati meglio e o riproporli identici oppure fare delle piccole variazioni nel caso del reel di Milano ho ottenuto la foto del video del Duomo con me in Duomo in sottofondo ho preso lo stesso messaggio e l'ho trasformato quindi stesso messaggio stesso disagio del mio cliente ho provato un nuovo copy e ho modificato leggermente la parte video e credo che la parte che abbia funzionato di più sia stato proprio il nuovo copy quindi questo reel ha avuto una nuova diffusione perché il reel era diverso agli occhi di Instagram il messaggio era più o meno lo stesso e ha funzionato meglio quindi ora non vedo l'ora di vedere i tuoi reel testati e che tu inizi a provare la viralità